Ciao Gennaro, ciao Vino, stamattina gli amici vanno fuori lei, vabbè qualcuno ha mangiato un po' di più qui, siamo in discesa, siamo in discesa infatti, magari stamattina cerchiamo di portare una velocità costante, una giornata fresca, leggermente ventilata con un po' di brezza, si sta bene, buongiorno. Buongiorno Presidente, sempre con noi, ci manca il nostro amico Taricone, Taricone si è arrabbiato in terra, si vuole, è andato a far passare della mozzarella, Taricone ti sei mangiato tant'è che la mozzarella che ti è rimasta dal posto, di chiarità. Perchè qualcosa non ci è andata bene, dopo la vado a trovare a casa. Speriamo che si è sentato in colpa tazzo stamattina. Speriamo che non è capitato sul gabinetto, che rimane a storia. E vabbè Presidente, dopo quando ci fermiamo facciamo una telefonata. Sì, appena ci prendiamo il caffè, lo telefoniamo. E poi ci manca, in tutto somma ci manca Taricone. No, non ci piace il nostro abitare in tutto. Non lo vogliamo aiutare. Taricone, non mollare, ti prego. Non tradirmi mai, ne so di ne do. Sono di Sabianluca, vedete tanto bello, con polietti, polietti. Potranno dividerci, tu sei il mio amico carissimo. Non tradirmi, carissimo, non tradirmi mai.